I falconieri, i nichierici siamo noi, le religioni dovrebbero fare un passo indietro, ci propone un lezzaggio, una lettura estremamente stimolante, questo che vi mostro è la versione ex libris ovvero stampata in volume di un omonimo ebook che si può trovare e ordinare sempre su ebooksitalia.com Ettore Falconieri è un saggista che ama scrivere dei pamphlet che invitano alla riflessione e un precedente suo libro, Abbasso i chierici, ha avuto un notevole successo. In questa occasione prosegue il suo discorso dal laico oppure da autore che vuole mettere qualche briciola di dubbio nella testa anche di chi non è veramente completamente laico. Lui scrive per quanto riguarda i chierici siamo noi, scrive nel risvolto di copertina giusto per dare una prima impressione di questo suo agile testo. Dopo essere stata per secoli e millenni la struttura portante di stati e popoli, le religioni, ora che le comunità umane si evolvono verso società più libere e democratiche e con la presa di coscienza di un sempre maggiore numero di individui della propria libertà anche di pensiero remano troppo spesso contro il progresso di donne e uomini per non perdere la loro presa sulle coscienze. Già questo vi fa intuire qual è l'impostazione estremamente laica di Ettore Falconieri in queste pagine ed è un'impostazione che invita giustamente alla riflessione, certamente le religioni sono un elemento di tradizione che frena l'evoluzione, qualunque tipo di religione, chi più chi meno operano in questo senso, talvolta la società va molto diversamente e molto più avanti di quelle che sono le regioni, poi ci sono gli estremismi religiosi che portano all'aberrazione certi tipi di ragionamenti. Ma Ettore Falconieri, a proposito questo non è il vero nome dell'autore, dietro questo pseudonimo si cela un noto studioso e anche un noto economista, ci offre in questa agile lettura in poco meno di 100 pagine un grappolo di argomenti su cui riflettere per cercare forse di interpretare ancora meglio la nostra religiosità o di interpretarla con quel sale di piccolo distacco brettiano che ci consente di usare la nostra mente e la nostra intelligenza sempre. Questa è una lettura che certamente gradiranno molto tutti coloro che si definiscono laici ad oltranza, ma è una lettura che credo dovrebbe essere estremamente significativa per tutti quelli che non sono laici, dovrebbe essere estremamente significativa per i cattolici militanti, ma dovrebbe essere altrettanto significativa per chi pratica ad esempio la religione islamica per le persone, scusate se le definisco così, intelligenti che praticano la religione islamica. Vi voglio semplicemente leggere la prima pagina e mezzo di questo libro prima di concludere, che vi dà immediatamente il senso dell'approccio di Ettore Falconieri nell'affrontare l'argomento che si è proposto. «Ha attraversato le savane, scrive Ettore Falconieri, i deserti, le foreste, i ghiacciai del dubbio. Ha solcato i mari e scalato le montagne dell'ignoto. Osservando il fluire della vita e l'evolversi del mondo circostante, meditando sul mistero della vita e della morte, scrutando gli astri, si è chiesto tanti perché. E si è dato, via via, risposte che lo appagavano, cucendosi addosso ad ogni risposta, per secoli e secoli, abiti mentali che gli davano un alibi per motivare ciò che non capiva, lo rassicuravano nell'incertezza, lo convincevano di essere sulla buona strada. E gli davano il tepore della tranquillità, pur nei travagli della vita, della convivenza e delle inimicizie dei suoi simili. Ma ora il clima è cambiato. Non avrebbe più bisogno di tutti quegli abiti, abiti di religioni, filosofie, ideologie, consuetudini. I suoi movimenti sono impacciati dal peso di secolari abbigliamenti, di gamurre dogmatiche, di pastrani teologici, di scialli demiurgici, di cappucci filosofici. Ha un caldo soffocante che appanna la freschezza della sua ragione, ma quei panni li paiono cuciti addosso e non se li toglie. Eppure potrebbe toglierseli solo che lo volesse. Potrebbe, cioè, provare a ragionare, guardandosi attorno e riflettendo, senza farsi condizionare da tanti vestimenti sui quali vegliano attenti, minacciosi o sornioni, sarti interessati, a che moda non cambi. Potrebbe provare a ragionare con ingenuità, senza farsi influenzare da altri, se si convincesse che è lui il sarto, l'attore, il filosofo, il teologo di se stesso. Se si convincesse che quanto lo ha preceduto può essere oggetto di riflessione, di studio, di rispettosa considerazione, ma non può essere certezza da imporre. Solo lui può darsi certezze. Solo lui è chierico di se stesso. Lui è tutti. I chierici siamo noi. I chierici siamo noi.